Si accendano le luci a Fivizzano, a Massacarrara, dove fino al 12 dicembre va in scena Sapori di Natale 2022. Oltre 50 gli stand di enogastronomia con piatti e prodotti tipici della lunigiana e del territorio, che animeranno le strade e le piazze del borgo toscano. Nei giorni della manifestazione non mancheranno canti di Natale, laboratori per bambini, spettacoli di artisti di strada. Verrà inoltre addobbata la casa di Babbo Natale per una festa che coinvolge tante associazioni e che sarà l'occasione anche per riscoprire luoghi di interesse culturale come i palazzi storici di Fivizzano. Venire a Fivizzano perché innanzitutto abbiamo aperto i palazzi storici, Palazzo Cogliari dove sarà presente una mostra che rievocherà una grande manifestazione del territorio che è la rievocazione storica della disfida degli arcieri di terra e corte. Oltre a questo abbiamo l'apertura di un altro palazzo storico che è il Palazzo Gargioli che ci ricorda un noto fotografo fivizzanese Giovanni Gargioli al quale dedichiamo già negli anni, ormai siamo alla terza o quarta edizione, un premio fotografico perché era stato colui che aveva fondato il Gabinetto Fotografico Nazionale a Roma. E poi ci saranno tutti dal Museo di San Giovanni alla Biblioteca Civica. Il nostro albero di Natale sarà la Fontana Medicea fatta costruire da Cosimo III che ricorderà Fivizzano città della stampa perché sarà adibita a albero di Natale con delle sfere gigantesche che andranno a sottolineare chi ha inventato dopo Gutenberg la stampa cioè Jacopo da Fivizzano.